Hey! Hey! I debbi! Hey! Avete presente quando scrivete il vostro nome su Google per vedere che cosa esce? Bene, l'altro giorno lo stavo facendo, come ho iniziato a scrivere Enonora Petrella mi è uscito subito altezza Bene, io devo farvi una confessione, io sono alta un metro e... E la prima cosa che mi si viene detta da magari alcune lettrici che possono trovarmi su Instagram, su Facebook, dicono Oddio, ma credevo fossi più alta! Bene, alta? Io? No! Così ho pensato di creare un nuovo video in cui raccontarvi i 10 consigli per sembrare più alte Scegli un look monocromatico, se vuoi aggiungere un altro colore, punta sugli accessori Indossa capi a vita alta, di moda e assottigliando la vita, allungano la figura Indossa tacchi dello stesso colore della tua pelle, oppure scegli calze e tacchi dello stesso colore Vietato le cinture spesse, perché spezzano la figura, quindi scegli sempre dei cinturini sottilissimi da stringere in vita Indossa abiti fitted, quindi aderenti, che non significa però troppo stretti Vediamo la differenza Questo è fitted, questo è troppo stretto Fitted, troppo stretto Fitted, troppo stretto Scegli un look ben bilanciato, facendo quindi bene attenzione alle proporzioni Giacca lunga, gonna corta Gonna lunga, giacca corta Le righe verticali sono le tue migliori amiche Best friend Scegli borse di piccola o media grandezza Quelle maxi tenderanno a far sembrare un folletto Metti in bella vista il collo, con scolli a V oppure girocolli Ultimo, ma non meno importante Stai dritta con la schiena, recupererai quasi un paio di centimetri Ricorda, anche se siamo bassine, non significa che valiamo meno delle altre Il mondo è pieno di bellissime ragazze con stile, non particolarmente alte Per qualsiasi altra domanda scrivetemi sotto nei commenti Oppure su tutti i miei canali social Per qualsiasi altra domanda scrivetemi sotto nei commenti Per qualsiasi altra domanda scrivetemi sotto nei commenti